ciao ragazzi marco trans games il drago arrabbiato e la mitica macchinetta dei popi della ariete party time grandissima ragazzi una vita una vita merita che la volevo allora andiamo e vi faccio vedere il funzionamento mentre gli stanno mangiando vive le zanzane buttiamo dentro un po di popi mettiamo bacinella e andiamo via gira gira eh gira gira dentro tanti bei pop co buoni buonissimi per fare le vostre live incredibili io l'ho comprata per questo perché magari a volte carla non c'è mia moglie o leonardo vittorio allora compriamo la macchinetta per fare qualche cosa non si sentirà la mia voce perché fa un casino incredibile vibra meno se tengo la manina sopra poi gira 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 oh arriveranno i pop corn secondo me arrivano arrivano mi ho visti mi ho visti uh uh esplode oh si ma esplode tutto esplode tutto mio dio fuori potete tirano dappertutto sai che dobbiamo mangiarli no no fuori dalla ciotolina dentro ancora qualcuno eh e questi sono ha sbattuto in giro un po di pop corn in tutta casa però fa niente ha fatto un bel po di pop corn poi dopo quegli altri credo che si possano buttare ancora dentro e li facciamo esplodere ancora questa è la mega macchinettina dei pop corn della riete party time mi raccomando compratela quando guardate marcodrams games channel su twitch o i video su youtube ciao amici iscriviti al canale Grazie a tutti.